Siamo a Matera sul cantiere della nuova stazione delle ferrovie a Polo Lucane, siamo molto contenti, ho confermato il fatto che il 19 gennaio per l'inaugurazione di Matera capitale della cultura europea il primo treno tabale dell'aeroporto arriverà, sarà un treno di nuova generazione e quindi siamo felici perché questo è un cantiere piccolo ma molto complesso ci lavorava su tre quote diverse, la quote dei binari, la grande apertura di 400 metri quadri sulla quote della piazza e la pensilina di 1500 metri quadri, grande successo questo con un cantiere che riesca in pochi mesi a fare qualcosa che solitamente si realizza in più di un anno. Auguri a tutti e buon 2019! Ciao! 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 Ciao!